Ciao a tutti, sono Lillo, oggi siamo a bordo di un catamarano dell'Affartivento, che è una società che opera nel settore nautico da più di 20 anni. Siamo romeggiati nella nostra base di Porto Rosa, che insieme alla base di Capodorlando rappresentano il punto ideale di partenza per poter raggiungere le ole e iniziare la nostra vacanza in barca a vela, in quanto entrambe le basi distano soltanto 15 miglia. Le isole olie fanno parte del patrimonio dell'UNESCO dal 2000, quindi da circa 20 anni. Sono delle isole di origine vulcanica e sicuramente l'isola più affascinante è lo Stromboli. Lo Stromboli è un vulcano attivo che ci riporta indietro milioni di anni. Infatti se navighiamo di notte sul lato nord-occidentale di quest'isola è possibile ammirare le continue esplosioni e vedere i lapilli con le pietre infuocate rotolare fino in mare. Se alle isole Oli dovessi scegliere una baia dove trascorrere la notte, cullato dalle onde per mirare il cielo, sicuramente sarebbe Baia Milazzese, che si trova a Panarea, sul lato sud-est dell'isola. La baia ha fondali sabbiosi e protetta dai venti da ovest e dai venti da nord e si trova ai piedi di un antico villaggio preistorico dell'età del bronzo, vicinissima a Calayunco, che è un parco naturale che si trova sempre sul lato sud dell'isola. Un altro posto che merita di essere menzionato dove fermarsi per fare un tuffo sono le spiagge bianche dell'isola di Lipari. Si trovano sul lato nord-est dell'isola, qui i colori predominanti vanno dal bianco al turchese. Il bianco sono le cavi di pomice, il turchese è rappresentato dalle acque, dal colore che hanno le acque dovuto alla riflessione della luce sul fondo bianco. Un'altra baia ancora dove fermarsi e fare un altro tuffo è la baia di Pollara. Si trova sul lato nord-ovest dell'isola di Salina, è una baia rappresentata caratterizzata da un arco naturale e da fondali bellissimi ricchi di flore e di fauna per cui, per chi ama lo snorkeling, è altamente consigliata. Navigare alle olie non presenta grosse difficoltà. D'estate il vento predominante e il maestrale. Tutti gli approdi sorgono sul lato est dell'isola così come anche i porti principali. I porti principali sono due, abbiamo Pignataro all'Ipari e il porto delle olie nell'isola di Salina. D'estate, per implementare i posti barca, vengono installati dei campi boe e dei pontili galleggianti. Nei pontili galleggianti è possibile trovare acqua e luce. Nelle boe, ovviamente, abbiamo un servizio navetta per raggiungere la terraferma. Per prenotare, se siete in flottiglia, vi consigliamo di mandare una mail nei porti principali alcuni mesi prima. Invece, per quanto riguarda il campo boe e i pontili galleggianti, basta telefonare qualche giorno prima e il posto è assicurato. Per degustare le prelibratezze della cucina eoliana, vi possiamo consigliare sull'Ipari il ristorante dal Filippino o da Epulera. Filippino è un ristorante antichissimo, infatti sorge sull'isola fin dal 1910, mentre Epulera è un ristorante un po' più giovane e caratterizzato dal fatto che si trova all'interno di un giardino ben curato e i tavoli sono sotto degli alberi di agrumi. Un altro bel ristorante dove potete degustare sempre del pesce freschissimo pescato all'interno dell'arcipelago, sull'isola di Salina, è rappresentato da Portobello. È un ristorante che sorge su una terrazza che domina l'intero porto. Se voleste fare anche una degustazione di vini, sull'isola di Salina abbiamo la cantina di Fenech e la cantina di Auner, dove è possibile degustare sia vini, prodotti tipici e anche dell'ottima malvasia. Mentre sull'ipere abbiamo le cantine di Castellaro, dove è possibile fare la degustazione su una terrazza che sorge all'interno del vigneto stesso della tenuta Castellaro. Si trova in collina a circa 250 metri di quota. A questo punto non mi rimane che salutarvi e augurarvi una buona vacanza. Alle prossime!